Buongiorno a tutti. Sono Ettore Lorito, nato a Genzano di Lucania il 1 dicembre 1885, maestro della scuola elementare di Genzano di Lucania, nominato il 19 novembre 1908, deceduto a Bari il 1 marzo 1981. Ho scritto due libri Genzano di Basilicata, Cronografia per Sotto l'arco di Eros. Il romanzo Sotto l'arco di Eros vi racconto una storia, probabilmente accaduta, descrivendovi gli usi e costumi di Genzano alla fine delle 800, e nel libro Genzano di Basilicata, Cronografia per il libro di storia di Genzano di Lucania.